Il male del mondo non proviene da Dio, ma dal suo nemico, il maligno, che ha seminato il male in mezzo al bene. A noi uomini è impossibile separarli nettamente, ma Dio alla fine potrà farlo. Lo ha detto Papa Francesco questa mattina in piazza San Pietro, prima della preghiera dell'Angelus, e la quale ha commentato la parabola di Gesù del Buongrano e della Zizzania, proposta dalla liturgia domenicale. Qui Cristo affronta il problema del male nel mondo e mette in risalto la pazienza di Dio, e il proprietario del campo, ha spiegato il Papa, contrapposta all'impazienza dei servi, che come noi hanno una gran fretta di giudicare, classificare, mettere di qua i buoni, di là i cattivi. Dio invece sa spetare. Egli guarda nel campo della vita di ogni persona con pazienza e misericordia. Vede molto meglio di noi la sporcizia e il male, ma vede anche i germi del bene e attende con fiducia che maturino. È grazie a questa paziente speranza di Dio, aggiunto Papa Francesco, che la stessa Zizzania alla fine può diventare Buongrano. Una pazienza che non è però indifferenza al male. Alla fine, ha concluso il Papa, il giudice sarà Gesù, che ci giudicherà con lo stesso metro con cui abbiamo giudicato. La misericordia che avremo usato verso gli altri sarà usata anche con noi.